Dovunque si fanno barricate, perché? Perché si dovrebbe costruire in parallelo una progettazione positiva, togliamo l'ospedale, costruiamo una rete di protezione diversa, che è quella che noi proponiamo. Meno spedalizzazione, più medicina a domicilio e del territorio. Ora, io credo che questa vicenda dei tagli lineari alla fine farà i conti con i bisogni, con le tensioni e quindi che il fatto che noi abbiamo costruito questo percorso, che costruiamo queste progettualità, che finito il percorso costitutivo, che dobbiamo finire il più presto possibile dal punto di vista interno, dobbiamo spostare tutta la nostra iniziativa sulla pressione per affermare le progettualità, soprattutto a livello regionale, dove si gestiscono questi processi. A quel punto io credo che le nostre idee incominceranno a camminare, ma incominceranno a camminare prima di tutto perché risolveranno problemi. E quindi io penso che per essere un'idea, un'iniziativa innovativa di strada ne ha fatta direi più della norma di un'innovazione. Perché i tempi per affermare una vicenda di questo genere hanno la loro importanza. Quando 30 anni fa, forse qualche anno di più, Gino Mattarelli lanciò l'idea delle prime cooperative sociali in un deserto culturale pressoché totale, sembrava veramente un visionario. Noi sappiamo bene che la cooperazione sociale in Italia in questo periodo è diventata l'unica rete del welfare locale nel nostro paese. L'ha costituito, l'ha strutturato. I tempi sono stati quelli che sono stati. Ora io credo che l'idea che noi portiamo avanti abbia queste potenzialità. Penso che abbia dei tempi molto più brevi perché le impellenze ci aiuteranno, però bisogna essere razionali nel sapere che noi abbiamo lanciato una sfida molto impegnativa, piena di difficoltà, che va a insidiare interessi straordinari che nemmeno noi abbiamo ancora valutato. Non solo gli interessi economici, la struttura corporativa che c'è nel ciclo della sanità non c'è più da nessun'altra parte e vorrei che non sottovalutassimo il fatto. L'ultimo bacino nel quale la politica italiana ha radici profondi e interessi profondi di potere di altro tipo è la sanità perché gli altri non ne altri. Allora noi dobbiamo essere lucidi nel sapere l'importanza e la forza del nostro progetto ma anche l'asperità delle difficoltà con le quali dobbiamo fare i conti tutti i giorni e quindi non farci prendere dall'ansia della fretta dei risultati. Io credo che poi in questa nostra vicenda ci sia anche una sfida importante che non possiamo sottacere proprio per la natura che ha la nostra storia cooperativa. Se, insieme al Presidente, qualcun altro l'ha preso, dice oggi tutti si vogliono occupare di sanità. Ovvio, è un business formidabile, gira tanti quei soldi lì dentro e di fronte al sistema di welfare che si è esaurito, è un mercato che si libera. Può la cooperazione di conf cooperative con i suoi contenuti di sussidiarietà, di solidarietà, di attenzione alle persone, eccetera, permettere che il crollo del welfare state del Novecento, quello classico, consegni a una commercializzazione bieca il rapporto di cura quando le agenzie, reti di franchising, quando tutti si mettono a offrire fisioterapista, l'assistente, questo, quell'altro, il voucher, voucher di qua, voucher di là, nel momento in cui si individualizzasse il rapporto tra chi ha bisogno di cure e una rete di agenzie che mandano a pagamento questo, questo e quell'altro, si distrugge qualsiasi concetto di presa in carico che è una delle questioni fondamentali che caratterizza la nostra concezione in questo settore. Bene, a questo punto noi abbiamo di fronte l'impegno di concludere rapidamente il percorso costituente perché ci abbiamo lavorato un anno, è più che sufficiente, se c'è ancora qualche ragnatela togliamola, magari anche su questo diamo significato ad una cosa così alta, importante, strategica e nobile e non a qualche miseria se una cooperativa sta di qua, sta di là, che intanto sta sempre in conf cooperative e diamo valore invece significato alla strategicità di questa sfida che può portare la cooperazione conf cooperative ad essere una struttura centrale di una delle questioni più importanti del prossimo decennio e una stagione di sviluppo cooperativo straordinario e per poi passare ad avviare il lavoro sulla progettualità e su un'iniziativa forte nei confronti delle regioni perché poi ce la giochiamo lì, sicuramente a livello nazionale dobbiamo fare tutto il lavoro che si sta facendo che si è fatto, il Ministero della Sanità, questo, quell'altro, però poi i progetti devono trovare allocazione sul territorio, nelle comunità, con i distretti, con le ASL, con le reti locali che si vanno a costituire e quindi iniziare anche, come dire, a incidere dal punto di vista della fattibilità, mettendo anche qua già partendo da tanti perni che noi abbiamo già inseriti nel sistema collegando anche questa a una delle questioni fondamentali che chiamano in causa, per esempio, il discorso delle mutue perché abbiamo, che all'inizio sembrava un po' una cosa appiccicata, no? questa cosa delle mutue in federazione sanità ma una delle grandi questioni che avremo di fronte con l'arretramento della copertura pubblica è che interverrà inevitabilmente sulle esigenze di cura e risparmio delle famiglie che hanno due problemi il primo che senza mutualità non riusciranno mai a far parte a certe coperture pensiamo a certe specializzazioni e correremo il rischio di finire come in certi paesi che chi non ha i soldi non si cura l'altra è che per dare la possibilità a tutti anche di far fronte all'evento più costoso e più impegnativo c'è una regola sola che vige da sempre che è la mutualità e quindi le mutue chi è più anziano se le ricorda quando c'erano poi sono svanite perché c'è stata la copertura totale dello Stato le mutue torneranno ad essere uno strumento moderno di futuro, di grande attualità perché il risparmio delle famiglie non diventi anche qua oggetto di circuiti finanziari ma diventi oggetto di solidarietà e di complementarietà rispetto ai percorsi di sossidiarietà quindi noi in qualche misura mettiamo assieme un insieme di elementi di forte contenuto anche rispetto a quello che è il profilo della società che noi vogliamo in futuro insieme alla capacità di rispondere a tutta una serie di esigenze e a quello di costruire un futuro un nuovo futuro nuovi spazi di sviluppo della cooperazione nel nostro paese che siano degni della storia che da sempre ha costruito nelle fasi storiche che ha attraversato quindi credo che possiamo fare gli auguri di buon compleanno a federazione sanità non lo ripeteremo nel nel percorso perché non è un'usanza però il primo anno mi pare che abbia un grande significato e anche perché federazione sanità mi sembra che ha un anno ma ne dimostrano molti di più e quindi proprio per le cose che ha fatto per la strada che ha già fatto e per quello che è riuscito a fare quindi rinnoviamo auguri veramente e un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno creduto grazie 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 grazie